Amici ci troviamo a Gaglianico nella palestra comunale dove quest'oggi seguiamo l'interregionale di box tra la selezione del Piemonte e Valle d'Aosta contrapposta a quella della Sardegna. Sì, è stato positivo sotto tutti gli aspetti perché bellissime prestazioni dei ragazzi, tanta gente finalmente che forse era la cosa che ci aspettavamo anche di più perché abbiamo dato la possibilità di venire a vedere la box gratis e forse abbiamo fatto il colpo giusto e i ragazzi sono andati praticamente tutti bene, non pareggio solo, gli altri hanno vinto tutti, bello rientro di Damiano Aprile anche se non ha combattuto con un ragazzo alla Sardegna ma con un ragazzo di Borgosesia, molto bene anche Brian, tutti molto bene, i ragazzi sono andati bene e sono contento, Ivan Bogian alla fine è andato bene, bel pugile, intelligente, tutto a posto. Allora io insieme a Davide Gregualdo che ormai si sta occupando più del professionismo sono responsabile della squadra Elite che sarebbero tutti i pugili diciamo sopra i 30 match più o meno e senza caschetto. Il movimento regionale piemontese diciamo che si sta riprendendo, in realtà abbiamo vissuto anni con pugili di maggior rilievo, adesso abbiamo qualche pugile che sta crescendo, però abbiamo due o tre elementi a livello di Elite di vario peso molto bravi, quindi nei prossimi interregionali che faremo con gli Elite, uno di questi è fissato per il 17 di dicembre, riusciremo a far vedere un po' tutti. Degli Elite promettente dunque abbiamo sicuramente Salara Fic, è un ragazzo di 69 kg marocchino di Verbania, molto bravo, molto molto bravo, secondo agli italiani l'anno scorso, qualificato quest'anno per gli italiani, è molto bravo. Secondo me Guerra, un altro ragazzo dei 52 kg di Cristian De Martínez, molto bravo anche lui, è un bel pugile, giovane, 22 anni, veramente molto bravo. Altri pugili, beh, l'abbiamo visto oggi, anche questo ragazzo nigeriano, Joshua, a 19 anni, promette molto bene, il fratello è passato professionista, lui farà ancora un annetto da dilettante e poi passerà a professionismo. e degli altri diciamo che devono crescere. Noi abbiamo Mohamed nei 91 kg, che è bravo, ma purtroppo lo vedo poco, si allena poco da noi, anche se lui è passato negli Elite nei campionati italiani a Bergamo.